Prossimo ingresso da 129 di Pistiera, Mark Green Runways, in sella Gennaro Renghi, cavallo di protetta di Paola Arcese, conteggio del primo gol, 211 e mezzo. Next to go is draw 4, back number 129. Prossimo ingresso da 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 129. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puntito per Gennaro Lentini verso il secondo gol 213 per un totale di 424 punti e mezzo. Secondo gol score è 230, total è 424.5.